Ed eccoci di nuovo a parlare di canzoni, questa nello specifico è un poco datata e credo non sia neanche tra le più conosciute dell'artista in questione. Io non l'avevo mai sentita nominare, poi qualche settimana fa un mio amico ha scritto questo titolo in una chat, mi sono incuriosita a partire appunto dal titolo e sono andata a cercarmi il testo. Una volta che ho letto il testo ho pensato no vabbè bisogna parlare di questa canzone. Allora la canzone si intitola La donna vera, è dei primi anni 80, mi pare dell'84 ed è scritta e cantata da Enrico Ruggeri. A me già il titolo mi ha fatto sorridere perché mi ha ricordato quei post terribili che girano su Facebook dove si celebra la meraviglia di queste creature speciali che sono le donne, sottolineando come solo alcune di loro siano meritevoli di lode e ammirazione, quelle vere e cosiddette donne con la D maiuscola. A questo punto non ho resistito e ho deciso di fare una ricerca, sono andata su Google e ho scritto donne vere frasi, quindi mo ce ne leggiamo qualcuna perché sinceramente meritano la condivisione. La prima che ho trovato è stata la vera donna è un concentrato di tutto, bambina nell'anima, donna nella mente e femmina nel corpo. Non so se abbia un autore, non sono stata in grado di rintracciarlo, ma immaginate che, non lo so, Coco Chanel, Jim Morrison, questa roba qua. Andiamo avanti. Un'altra. Una vera donna è molto più di ciò che si vede. Il suo corpo è una copertina. Io ogni volta che leggo copertina penso alla copertina che metto io sul divano. Gli occhi il titolo, ma dentro c'è un libro, un grande libro. A pochi è dato leggerlo perché pochi sanno comprenderlo. E quei pochi, aggiungo io, sono i veri uomini. Perché il concetto di autenticità e fedeltà applicato al genere trasversale riguarda sia gli uomini che le donne, ma ci arriviamo dopo. Un'altra ancora, un altro paio, dai. Le donne che hanno sofferto, quelle che si sono costruite facendo tutto da sole, sia mai che abbiano qualcuno che dia una mano, hanno un enorme difetto. Sono vere da far paura. Altra frase, quelle che fanno venire i brividi. Non so, Marilyn Monroe, Pablo Neruda, Oscar Wilde, Bukowski. No, uno di questi qui. E poi l'ultima, questa me la ricordavo perché a un certo punto l'ho vista girare e mi era rimasta impressa, rimarrà impressa anche a voi, non me la dimenticherete. E dice, la vera donna è quella che al mattino si alza un'ora prima del risveglio del suo uomo e gli prepara la colazione. Io inizialmente pensavo fosse una roba ironica, ma no, o meglio, di sicuro chi la condivideva non la condivideva pensando fosse ironica. La condivideva come una roba seria, quindi non so che dirvi, però so che non ve la dimenticherete. Ma che cos'è una donna vera? Una donna vera è una donna che aderisce perfettamente alle aspettative di genere. Quindi una donna che possiede tutte le caratteristiche che si ritengono proprie del genere femminile. Potremmo dire una donna che non smargina, per citare la nostra sempre amata Elena Ferrante. Una donna vera, quindi, per provare a tracciare un identikit, è una donna femminile, una donna composta ed elegante, che non eccede mai con il make-up e che non indossa vestiti troppo appariscenti, se non per il suo uomo. In questo tipo di descrizione la donna appartiene all'uomo, l'uomo appartiene in qualche modo alla donna. La donna vera è una donna che non è mai volgare, perché la volgarità è lo spauracchio delle donne, come la strega cattiva per i bambini. La volgarità è in agguato e ci terrorizza, sempre lì, pronta a uscire dal letto, sotto il letto. È una donna che non affronta mai argomenti controversi, ma che predilige essere la leggerezza. Una donna che concepisce il sesso solo se c'è amore, che aspetta il principe azzurro, sogna il matrimonio e la famiglia, diventare mamma perché solo con la maternità e l'accudimento potrà dirsi veramente completa. Una donna che rimarrà sempre accanto al marito e lo supporterà in ogni difficoltà, perdonando i suoi errori per il bene della famiglia e della coppia. Quindi materna, paziente, disposta a sacrificio, sempre e comunque, e che non metta mai se stessa prima delle persone amate. Probabilmente mi sono dimenticata qualcosa in questo ritratto, ma più o meno è questo il modello della donna vera. Va da sé che chi non corrisponde a questa immagine non si eleva all'apice delle possibilità del proprio genere, rimane una versione poco autentica, falsa. La rigidità dei ruoli è quello che serve a una società patriarcale per mantenersi viva, vegeta e forte, ed è il motivo per cui alle vere donne corrispondono i veri uomini. Che sono gli uomini tutti in un pezzo, forti, protettivi, che si caricano sulle spalle il peso della famiglia, che badano alla propria donna, che la difendono dai pericoli, quindi detto tra noi, dagli altri uomini. Insomma, il cosiddetto uomo alfa, il cacciatore, il capobranco. Se ci avete fatto caso, negli ultimi anni sui social si stanno diffondendo profili che propongono proprio la piena aderenza ai ruoli di genere, come via d'uscita da un mondo confuso che non abbraccia più i veri valori. Gli uomini alfa da una parte, uomini che danno agli altri uomini suggerimenti su come corrispondere a un modello di mascolinità solida, e le trade wife dall'altra, le mogli tradizionali. Sicuramente vi sarà capitato di vedere qualcuno di questi profili su Instagram di entrambi i casi. Le trade wife, nello specifico, sono donne che adottano un impeccabile stile anni 50 e rivendicano la scelta di fare le casalinghe e di aderire quindi allo stereotipo di genere. Ora, la scelta individuale di trovare soddisfazione nel preparare torte e a pagare l'esigenza di figli e marito e famiglia, di per sé ovviamente non è niente di sbagliato. Ogni persona è libera di realizzare se stessa come crede. Ma è discutibile che diventi un modello. Discutibile che diventi un modello, parlo per noi, in uno stato, l'Italia, in cui al sud una donna su tre lavora, al nord una donna su due. Quindi l'accesso delle donne al mondo del lavoro non è ancora pieno, non è ancora garantito. Quindi far diventare un modello, la donna che sceglie di non lavorare, è quantomeno problematico. E l'altra questione è che bisogna guardare il quadro generale. La scelta di rimanere a casa, a fare la casalinga, è ancora una scelta esclusivamente femminile. Non ci sono uomini, se non, non lo so, due o tre unicorni sparsi per il mondo, che fanno la stessa scelta. E se le cose stanno così, vuol dire che quella scelta che rivendichiamo come autonoma, autonoma non è, perché riguarda il nostro genere esclusivamente. Se riguarda il nostro genere, vuol dire che riguarda uno stereotipo sul nostro genere. Di conseguenza non possiamo che non guardare al perché solo le donne scelgono di rimanere a casa e di fare le casalinghe. Questo ritorno ai cosiddetti ruoli tradizionali, quindi l'uomo alfa da una parte, la donna che sceglie il ruolo accudente dall'altra, ha a che fare ovviamente con il clima politico mondiale e con un terreno che si vuole rendere sempre più instabile per l'autoaffermazione delle donne. Stiamo assistendo alla messa in discussione delle libertà femminili guadagnate con grandi lotte. Facile pensare al diritto all'aborto che viene messo in discussione in tutto il mondo praticamente. Ed è proprio per sedare la rabbia e lo smarrimento, dati dall'arretramento rispetto ai diritti, che l'establishment serrà i ranghi e che sempre più persone si affidano alla sicurezza, che sicurezza ovviamente non è, anzi, data dal rispetto dei ruoli che definiamo tradizionali. Come dicevo si tratta di un fenomeno che ha radici politiche, quindi anche in Italia, saprete bene come siamo messi, la tendenza a ribadire l'egemonia di una società ben ancorata ai ruoli di genere trova un terreno fertile. Anche perché non si può considerare in questa celebrazione dei ruoli tradizionali altri fattori come la precarietà lavorativa ed economica, perché è dove l'insicurezza rispetto al domani la fa da padrona che ci si rifugia nei modelli vetusti, ma almeno conosciuti. Quindi c'è da immaginare che nei prossimi anni le persone verranno sempre più incoraggiate verso i ruoli tradizionali, perché solo se gli uomini e le donne non si muovono dalle loro posizioni prestabilite, questa società per come è concepita non va in crisi. Dopo questo preambolo lunghissimo, torniamo alla nostra canzone, alla nostra donna vera e cominciamo a leggercela. Il primo verso è questo, La donna vera non ti fa spiegare quello che c'è che non va. Vi renderete conto, andando avanti nel testo, che la caratteristica fondamentale della donna vera, quella attorno a cui ruota un po' tutto, è che non rompa le palle. La donna vera non deve dare fastidio. Quindi la donna vera non si perde in elucubrazioni per cercare di fare andare avanti bene la coppia, per risolvere i problemi, eccetera, eccetera. Sta zitta, abbozza e al limite si carica a lei sulle spalle la risoluzione delle difficoltà. Non è un caso che siano molte più donne ad affrontare percorsi di psicoterapia, proprio perché si accollano le difficoltà del gestire una coppia, cosa che gli uomini spesso non fanno. Secondo verso, La donna vera non ti fa ricordare e non offende la tua dignità. La parola dignità io la detesto, comunque, al di là dei miei gusti, per le parole. Come vi dicevo, la donna vera non disturba troppo. Ora, cosa lui non vuole ricordare non è esplicitato, cosa lui non vuole gli si ricordi, anzi, per dirla precisamente, però presumo, anche dalla frase che segue, che sia un tradimento di lui. Quindi lui non vuole che gli venga ricordato che è stato infedele. Perché subito dopo dice, la donna vera non si vendica, se necessario dimentica. Quindi, che ti vendichi? Di un tradimento, che sia un tradimento fisico, che sia un tradimento, non lo so, un tipo di tradimento, di quello che ti puoi vendicare. Quindi, presumo che lui non voglia che gli stia sempre a rinfacciare il fatto che l'ha tradita. Poverino. Nella frase dopo, ancora, troviamo conferma di questa teoria, perché dice, la donna vera non ti compra facendoti morire, facendosi seguire. La donna vera non ti tiene legato a sé, facendoti ingelosire. Quindi, quel facendoti morire che dice, è il facendoti ingelosire. E poi aggiunge, facendosi seguire. Ora, fermiamoci un secondo, e notiamo una cosa interessante, che è già presente, ne abbiamo già parlato, con bella stronza. Quando le azioni agite da un soggetto diventano responsabilità di un altro, facendosi seguire. Cioè, è lei che sceglie di farsi seguire. Che è un meccanismo tipico delle dinamiche di violenza in ambito relazionale e familiare. Non sono io che ti tiro uno schiaffo, ma sei tu che mi esasperi. Quindi, lei si fa seguire, facendosi seguire. Se io ti seguo, non sei tu che mi costringi a seguirti. Sono io che decido di seguirti. Quindi, questa roba qui di far ricadere sul soggetto che subisce, l'azione del soggetto che agisce, ripeto, è una dinamica tipica delle relazioni di violenza in ambito familiare, ma come vediamo anche dei cantautori degli anni 80-90. Ma continuiamo. Il va de meccum della donna vera. Sapete bene che Enrico Ruggeri ci tiene sempre a farci sapere cosa pensa delle donne. Ha un po' questa idea di possedere la verità sulle donne. La donna vera non ti fa del male per ottenere potere. La donna vera non si mette a giocare per poter farti cadere. Sostanzialmente, riassumendo, la donna vera non ti inganna. Non si prende gioco di te. È un concetto peraltro condivisibile. Il punto che va sottolineato è che non è la donna vera a non fare queste cose, ma un qualunque essere umano innamorato o anche se non innamorato rispettoso dei sentimenti e delle emozioni della persona che è accanto. Se una donna si comporta male con il partner non viene meno all'ideale della donna vera. Questo ricatto dato dal genere è il problema. Io, se mi comporto male, non sto venendo meno al mio ruolo di donna. Mi sto comportando male. Come si comportano male le persone? Ora arrivano due versi meravigliosi, secondo me, i più belli. Vi leggo il primo. La donna vera non si libera. Lei è già libera con te. A posto! Allora, la donna vera non ha bisogno di libertà perché la libertà è quella che vive nel rapporto con lui. Ora, la libertà è un concetto di per sé ineffabile e poco concreto perché non ci sono dei parametri oggettivi perché qui non stiamo parlando di libertà, di persona libera che non è in prigione, ma stiamo parlando di percezione della libertà. Quindi è assolutamente personale, non ha una misura prestabilita. Io devo sentirmi libera a prescindere dall'avere accanto una persona e da ciò che quella mi concede. Cioè la libertà rimane con me, non è legata alla persona che ho accanto. La libertà è mia e la mia sensazione di libertà a prescinde da quello che mi dà quella persona o mi toglie quella persona. Inoltre ci sarebbe un controsenso grande quanto una casa, ma vabbè, ve lo faccio presente. Se diciamo che lei non si libera è perché è oppressa. Cioè il verso dice testualmente la donna vera non si libera. Ora, se io non mi libero è perché scelgo di non liberarmi, ma sono oppressa. Altrimenti se non fossi oppressa non avrei bisogno di liberarmi. Quindi non ha senso. Secondo verso meraviglioso. La donna vera non recrimina. Ti tiene per mano e parla molto piano. Sì, lo rileggiamo perché magari non l'abbiamo assaporato bene. La donna vera non recrimina. Ti tiene per mano e parla molto piano. Partiamo dall'inizio. Recriminare. Recriminare, ci dice il mio amico vocabolario, significa esprimere rammarico per quanto si è fatto e per quanto è accaduto. Quindi un'attività direi assolutamente lecita. La facciamo tutti. Ma la donna vera non può farlo. Lei deve dimenticare. Ma infatti lui ce l'ha già detto che lei deve dimenticare e non stare sempre lì a tornare sulle cose passate e sugli errori che ha fatto lui. Lei deve passarci sopra. Una bella scollata di spalle, si va a fare le unghie con le amiche e passa tutto. e poi come dice nella frase seguente deve parlare piano. Ti tiene per la mano e parla molto piano. Quindi ti rimane accanto e parla molto piano. Non ti dà fastidio. Che lo sappiamo che le donne hanno quella vocetta stridula che non riesce a fare le cose mentre parlano. Invece se parla piano piano puoi ignorarlo o comunque non sentirti minacciato ho messo in discussione. E di ieri io l'ho visto ieri non so quando ascolterete l'intervista a San Giuliano dove ha chiesto perdono alla moglie. Moglie che abbozzerà e andrà avanti perché questo è il suo ruolo. Sono abbastanza certa che le cose andranno così. Poi vedremo magari invece ci stupisce. Arriva il ritornello. Nel ritornello si celebra la grandezza della donna vera. Allora ma una donna così merita tanto non può vivere con mezzo uomo accanto non può vivere soltanto di parole non può credere a chi non sa cosa vuole non può stare con chi pensa per sé non può stare con me. Una donna vera merita un uomo accanto che non la prende in giro quindi che non la intorti di parole perché alla fine non è in grado di prendere una decisione quindi uno che non è egoista e il protagonista di questo testo non è ancora in grado di assumere questo compito. E' in qualche modo direi un uomo che va salvato quindi probabilmente da una donna vera perché sono le donne vere che salvano gli uomini così indecisi che brancolano che non sanno cosa devono fare che si accolla le sue indecisioni e la sua mancanza di senso di responsabilità. E' un uomo che ha ancora bisogno di divertirsi e probabilmente quando va a divertirsi lo fa con le donne non vere che la donna vera non si tocca quindi alla donna vera non puoi ingannarla lei merita un uomo vero eccetera eccetera però tu intanto passi il tempo con le altre donne quindi con le donne di serie B con le donne che non hanno i valori della donna vera. E' un po' l'impotenza psichica di cui parlava Freud la contrapposizione fra amore sacro e amore profano. Freud diceva che gli uomini amano dove non provano desiderio e dove provano desiderio non possono amare. perché vivono come scisse due idee di donne la santa e la puttana per la prima provano amore per la seconda desiderio è una storia vecchia come il mondo che ha le sue radici nei modelli femminili più rappresentativi della nostra cultura che sono della nostra storia che sono Maria Vergine ed Eva la peccatrice da una parte la donna vera dall'altra l'ingannatrice sono questi due modelli di riferimento della nostra cultura per quanto riguarda le donne a tal proposito vi consiglio Ave Meri di Michela Murgia se vi va di approfondire l'argomento andiamo avanti dopo il ritornello tornano altri tre versi e poi questa tortura è finita la donna vera non si fa aspettare per darti tutto il suo amore sia mai che la donna vera non ti dà tutto e subito lei ti ama a prima vista molla tutto ti mette al centro della vita probabilmente si trasterisce dove tu hai un lavoro mollando il suo lavoro ci ha occorre a tutta la famiglia tutti quanti la donna vera non ti fa aspettare sia mai la donna vera ti farà passare ogni profondo dolore io vorrei tanto che una donna vera mi mettesse una mano sulla cervicale ma non credo che succederà però sarebbe bello questa donna vera comincia ad essere veramente un'anima celeste è una santa verso successivo la donna vera ti dà l'anima e se ti guarda si illumina io c'è tantissimo questo non è che se ti guarda tu ti illumini perché ti sta guardando lei si illumina guardandoti cioè come se avesse visto Gesù Cristo cioè non lo so vabbè sbrocco però voglio dire sarebbe stato più logico dire se ti guarda ti illumini cioè sei così felice che ti guardi no se ti guarda si illumina lei si illumina perché niente perché ha visto il suo dio quindi non può che illuminarsi aggiungo così a naso consiglio da zia di non dare l'anima a nessuno può tornare utile è una di quelle cose che sempre avere con sé quindi in generale consiglierei di non darla a nessuno andiamo avanti c'è l'ultimo verso poi c'è di nuovo il ritornello ma ce lo siamo letto una volta sinceramente credo che basti un po' per tutti quindi ci leggiamo solo quest'ultima quest'ultimo verso che però devo dire è notevole penso che lo leggeremo anche un paio di volte la donna vera non si sente mai ma è sempre vicino è sempre più vicino la rileggiamo la donna vera non si sente mai ma è sempre vicino è sempre più vicino praticamente la donna vera è un cane cioè io non lo so ma questa frase non la direste di un cagnolino non dà fastidio ma è sempre più vicino ai miei piedi cioè è questo la donna vera non dà fastidio cioè non disturba non si sente mai non 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 dà fastidio per caso cioè io non lo so penso che ne abbiate abbastanza io direi che ho raggiunto il che la misura è colma per me ricordiamoci una cosa che secondo me è importante ribadire questa distinzione fra donna vera e donna che è vera non è serve fa male a noi fa male a noi perché ci divide perché ci divide in migliori e peggiori non ce ne sono non ci sono donne migliori di altre ci sono persone che si comportano bene in alcuni ambiti peggio in altri persone sfaccettate persone che hanno una varietà di comportamenti non ci sono donne vere e donne non vere e questa per prima cosa ce lo dobbiamo ricordare noi perché siamo le prime purtroppo a subire questo tipo di classificazione a farlo nostro siamo donne siamo persone e come tali non siamo catalogabili non ci sono donne di serie A e donne di serie B di serie B Grazie.